Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video mi trovo in taxi insieme al mio ragazzo e stiamo andando in gita in montagna siamo ufficialmente partiti e io devo stare seduta qua dietro secondo le disposizioni nazionali ma che belle montagne super flera ahhh aaa vedo la luce troviamo il lago di Sauris il nostro corso www.mesmerism.info www.mesmerism.info c'è un'aquila ecco qua come si presenta la stanzetta un bel letto c'è anche un divanetto e qua fuori la terrazza una terrazza aiuto mi stavo riportando e questa è la super terrazza prendiamo dentro la caduccia abbiamo già sistemato tutte le cose ma sembra già un un disastro no dai e qua vediamo il bagnetto un bagnetto carino con la duccia eee questo è quanto la stanzetta è molto molto carina ora andiamo a chiedere informazioni in questo ufficio sembra che il padrone sia lui andiamo a chiedergli informazioni ecco qua ecco qua il padrone non ha saputo risponderci la porta era chiusa purtroppo nel senso ciao ciao buonanotte sono leggermente affondata nella neve e per finire una bella pizza per concludere questa giornata buon appetito buongiorno a tutti siamo finalmente svegli siamo nell'area colazione e questa è la colazione che mi aspetta una bella torta allo yogurt e una al cioccolato qua c'è una di mele e un altro al cioccolato e aspettiamo ogni confuso di camomilla e finocchio camomilla e finocchio sulla parete sono appese tutte queste frasi carine tratte da libri ci giriamo in modo segreto per l'hotel e l'aspirapolvere vanno per arrivare dobbiamo correre e andarcene sono un attimo in terrazza fa un pochino freddo però c'è un paesaggio super bellissimo guardate che bello super bello super bello una bellissima giornata una bellissima giornata benvenuti in questo nuovo video mi tofferò in questo mare di neve vediamo se hai coraggio guardate guardate camera raggiunto vedi qua e se fonde ora si affonde mi piace ora provo io dopo aver passeggiato in lungo e in largo cercando un percorso che alla fine non abbiamo trovato e dalle 11 di mattina fino adesso che sono le 15.50 abbiamo cercato ma non abbiamo trovato quindi abbiamo girato dappertutto tranne in quel percorso dopo di questo e dopo aver pranzato in un postecino molto carino polenta e polenta col fricco ripartiamo e diciamo arrivederci a questa bellissima neve queste bellissime montagne arrivederci montagne arrivederci neve ci vediamo il prossimo anno forse addio addio neve addio noi ci dobbiamo lasciare ciao ciao salettiamo questo bellissimo lago di Sauris e la nostra gita si conclude qui ad un prossimo video e ad una prossima gita ciao 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 ciao